Ciao, sono Paolo Boracchi e frequento il secondo anno di chitarra professionale qui in NAM. Ciao, sono Diletta Via e frequento il secondo anno professionale di canto qui alla NAM. Ciao, sono Pietro Carulli e frequento il secondo anno di basso professionale qui in NAM. Ciao, sono Rishwan Polverini, secondo anno del corso Fonico Producer. È stato sicuramente stupefacente come in pochissimo tempo la NAM si è riuscita a creare una piattaforma parallela online dove poter seguire delle lezioni in maniera sincrona. Se un allievo perde una lezione ha la possibilità di rivederla in un secondo momento tramite la piattaforma online della NAM. Ci permette, oltre a poter recuperare le assenze, anche a magari approfondire dei dettagli che durante la lezione possono essere stati persi. La possibilità di rivedere le registrazioni delle lezioni a casa è sicuramente qualcosa che per noi studenti è stato molto utile. Non sempre si riesce a frequentare e avere la possibilità di riprendere delle lezioni perse è comunque una fantastica opportunità. La didattica a distanza presenta anche dei vantaggi in più rispetto a quella in presenza, perché a casa mia con il mio software ho più feeling e magari se ho qualcosa che non mi torna posso direttamente chiedere al docente, senza sentirmi in soggezione come magari potrebbe essere anche in classe. La NAM si è attrezzata velocemente con telecamere di buona qualità, microfoni. Trovo che tutto il materiale sia stato ottimizzato per avere delle lezioni eccellenti nel minor tempo possibile. Le dotazioni tecniche della scuola sono state sempre molto adeguate e ci ha aiutato molto a sentirci supportati. Non mi sono mai trovato in difficoltà per seguire una lezione, grazie appunto alle apparecchiature che la scuola ha messo a disposizione per le lezioni a distanza. Le lezioni miste, quindi metà in presenza e in parte anche da casa tramite delle video lezioni, sono secondo me un'ottima opportunità perché ti permettono di riuscire a seguire tutte le lezioni anche magari quando gli impegni di lavoro non permettono di muoversi e raggiungere la sede. Le lezioni miste comunque erano un'opportunità per gli studenti di venire in presenza, ascoltare in presenza il professore. Comunque si dava la possibilità degli studenti che magari abitano lontano di non perdere nessuna lezione. I docenti, nonostante comunque la distanza, riescono a coinvolgerti durante la lezione garantendo un servizio ottimale. Sono molto contento della loro performance, soprattutto delle lezioni teoriche, quindi delle lezioni di solfeggio oppure delle lezioni di armonia. Nonostante la barriera dello schermo del computer, i nostri insegnanti si sono sempre prodigati per portarci quanto più possibile le lezioni come se fossimo dal vivo. Non c'è stata nessuna differenza nell'entusiasmo e nell'intraprendenza del fare e coordinare le lezioni della NAM, anche se queste erano a distanza. Non abbiamo più i tempi morti per quanto riguarda l'entrare, sederci in classe e si è sempre puntuali. I tempi della lezione si sono ottimizzati perché comunque tutte le informazioni che passano all'interno della lezione tu hai la possibilità di rivederle tramite le registrazioni. Per gestire la parte tecnica, quindi le macchine che servono da parte dello studente, è stato istituito il supporto tecnico. Questo serve a noi studenti quando abbiamo dei problemi con l'attrezzatura, con magari le schede audio, per gestire bene l'audio e il video. Ci è sempre stato molto utile poiché tutte le volte in cui avevamo bisogno di aiuto loro ci sono sempre venuti incontro. Fortunatamente non ho dovuto mai ricorrere all'assistenza tecnica. È sicuramente qualcosa che permette a degli studenti senza una strumentazione così all'avanguardia di poter seguire tutte le lezioni e poter essere assistiti qualora dovessero avere problemi con la loro strumentazione. I docenti alla segreteria non ci lasciano mai soli nella gestione delle lezioni online. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti, a presto. Ciao.